Siamo allo stand Beretta EXA 2012, al corner Premium Guns, fucili d'alta gamba della fabbrica d'armi Pietro Beretta, in compagnia di Niccolò D'Amico, Product Manager Premium Guns. Oggi ci parlerà di un gioiello di Made in Italy, lo Sparviere, una sorpresa veramente d'eccellenza. Niccolò, quali sono le caratteristiche di questo meraviglioso gioiello? Allora, partendo dal nome, vorrei spendere un attimo due parole. Sparviere per due motivi, perché quando si aprono le cartelle e le cartelle vanno in battuta, il movimento che fanno e il rumore che fanno richiamano il frullare d'ali di un volatile. E ovviamente ci siamo anche ispirati alla cantina di vini della proprietà in Franciacorta, che si chiama Sparviere. Per la produzione di questo fucile siamo partiti dal nostro SO più tradizionale, l'SO6WPL, a cui abbiamo fatto alcune modifiche. Le modifiche principalmente si trovano sulla bascula, quindi possiamo notare sulla parte esterna che sono stati rimossi i perni e le viti, perché questo fucile ha un metodo totalmente rivoluzionario per lo smontaggio delle cartelle. Lo smontaggio avviene azionando a fucile aperto la sicura in avanti, quindi le cartelle si aprono e questo dà la possibilità ai clienti e ai collezionisti di visionare l'interno senza nessun problema e senza nessun utensile. Questo è importante perché molti dei nostri clienti hanno paura a smontarli, perché questi fucile ovviamente sono preziosissimi e sono delle opere d'arte, quindi c'è sempre un po' di mal di pancia. Però è importante che i clienti, i collezionisti e tutti possano rendersi conto che questo fucile, come tutti gli SO Beretta, vengono curati al massimo sia all'esterno sia all'interno. Ovviamente questo fucile viene ordinato direttamente dal cliente tramite un ordine speciale ed è internamente customizzabile. Perfetto Niccolò, quindi veramente incisioni fatte a mano, interamente a mano dalla bascula al calcio, legno scelto, customizzato sull'agenza del cliente, un fucile veramente personalizzato. Grazie per questa interessante introduzione, alla prossima, ciao Niccolò.